Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sì ciao a tutti ci sono anch'io Ma tu in questo video non c'entri niente Ma come? Io c'entro sempre Non dimenticare che io sono il tuo fratellino Vabbè fa come ti pare Comunque questo è un video speciale E sapete perché? Perché questo video sarà interamente dedicato ai miei sogni Ma che? Ma non frega niente a nessuno dei tuoi sogni Arex Guarda che i miei sogni sono bellissimi Sono talmente belli che ci si potrebbe fare una serie tv Una serie tv Una serie tv Eh quella Ne dubito altamente Arex E dai stai zitto fammi parlare Allora ragazzi dovete sapere che una notte stavo dormendo E tutto ad un tratto iniziai a sognare No ma che è davvero? Sì Che figata Lo so Perché devo ascoltare queste cose perché? Dicevo iniziai a sognare E sapete cosa sognai? Cosa sognasti? Sognai di andare in cielo In cielo? Sì Mi arrampicai su una stella E poi saltai sopra un'altra stella E poi sopra un'altra stella ancora E poi sei caduto no? No non sono caduto Insomma mi facevo strada tra quelle piccole creaturine luminose Ed erano così belle che sembravano chiamarmi Mi chiamavano per nome Acitrullo Oh stai zitto bastatore rovini sempre tutto Scusa scusa Dovevo farlo Comunque dicevo Saltellavo da una stella all'altra E saltellavo Continuavo a saltellare Saltellavo sempre di più Così pinghete ponghete Pinghete ponghete Ah ma per quanto tempo dovrai saltellare ancora? Eh aspetta guarda che la luna è lontana eh Mica ci si arriva così In un battedocchio Un ba 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 Sì in un Bart Simpson No In un batter In un batter D'occhio Arex Eh insomma quello E che dovevi andare a fare sulla luna? Oh io ho sempre sognato di andare sulla luna Ma poi finalmente arrivai sulla luna Ed era un posto bellissimo Ad ogni passo mi sembrava di volare Era un po' come se provassi a camminare sott'acqua Questo è perché la forza di gravidanza sulla luna è diversa rispetto a quella sulla terra La forza di gravidanza Eh scusa come si dice? La forza di gravità Arex La forza di gravità Vabbè devastatore ma è la stessa cosa Non è la stessa cosa Vabbè c'è una Y in più La Y non c'è proprio Vabbè mi fai finire di raccontare o no? Va bene racconta Insomma una volta atterrato sulla luna Iniziai a cantare La luna è mia Con quelle stelle puoi giocare Non faceva propriamente così la canzone però vabbè Senti poi mi devi interrompere ogni due secondi per forza No vabbè dai continua Dicevo finalmente avevo coronato il mio sogno Non hai coronato proprio un bel niente Dato che ciò che stai raccontando è proprio un sogno Vabbè nel sogno ho coronato il mio sogno Contento? Sì così va meglio Oh ora zitto Comunque finalmente avevo coronato il mio sogno Ma però Ma però non si dice Certo che sei pesante devastatore eh Vabbè continua E dicevo Però qualcosa stava per accadendo Per accadere Qualcosa stava per accadere Perché sulla luna non ero solo Oh e qui entro in scena io No tu non c'entri niente Dicevo sulla luna non ero solo Infatti tutto ad un tratto Spuntarono fuori delle creature terrificanti Avevano il corpo da dinosauro E la testa a forma di luna E fu lì che capì Che si trattava degli abitanti della luna Ovvero i lunatici I lunatici? Sì Ma i lunatici non sono gli abitanti della luna Ma come no? Eh no lunatico significa un'altra cosa No scusa vastatore Adesso prendo il vocabolario E vedi che ho ragione Allora aspetta Ma che stai facendo? Sto cercando lunatico sul vocabolario Aspetta che lo trovo Ecco guarda leggi Aspetta allora Lunatico significa abitoso della luna Hai visto? Ma che? Questa roba sul vocabolario l'hai scritta tu Non l'ho scritta io Sì Intanto non è abitoso ma è abitante Mannaggia mi hai scamato Dai poi che succede? Insomma alla fine i lunatici Oh ti prego chiamali in un altro modo Eh i lunarziani? Ecco lunarziani già mi piace di più Eh allora si chiamano lunarziani Eh i lunarziani decisero di esiliarmi dalla luna Perché secondo loro non ero degno di abitare sul loro stesso pianeta Ma la luna non è un pianeta Vabbè è una stella È la stessa cosa vastatore Ma non è nemmeno una stella Ma vedi che sei ignorante È un satellite Che c'entra la cellulite? Oh vabbè che ignoranza Vabbè stai di fatto? Che riuscì a convincerli a risparmiarmi Ecco E come hai fatto? Facendogli gli occhi dolci Eh sì È proprio un sogno Ma non solo mi risparmiarono Sai cosa successe? Ecco Che cosa? Mi fecessero loro re Ti fecessero chi è? Mi fecessero loro re Ti fecero E mi feci cosa? Ti fecero loro re E vabbè vastatore sempre feci sono Però Proprio nel momento in cui stavo per iniziare a regnare Ecco che arriva vastatore e mi sveglia Eh finalmente aggiungerei Ma era un sogno così bello Perché mi hai svegliato? Perché stavi facendo un casino incredibile Stavi lì a urlare nel sonno Lunga vita re Arex Lunga vita re Arex E vuol dire che ero felice no? Tu lasciami stare Una volta tanto che ero contento Bene Adesso possiamo chiudere questo video inutile Non è inutile Anzi sai una cosa? Da oggi inizio ad appuntarmi tutti i sogni che farò Specialmente quelli più belli E li porterò tutti sul canale Oh no 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 Non ci posso credere Sì No Sì No Ma ora il video può finire qui Fateci sapere cosa ne pensate E se vi va raccontateci pure i vostri sogni No ragazzi non lo fate Dite che non volete più video come questo Invece li vogliono Stai zitto Povero me Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti